Bella a tutti ragazzi sono Gainsam e come oggi siamo su un nuovo video gameplay e oggi continuiamo The Park, la serie che abbiamo iniziato ieri continua partita ok ci eravamo lasciati che eravamo davanti all'altra giostra e ho scoperto una cosa e ho scoperto come si suddivide il gioco praticamente ogni volta che andiamo avanti proveremo un'altra giostra del parco fino a provarle tutte e la cosa che mi spaventa è perché vi ricordate che nel primo episodio quando siamo entrati nel parco a trovare l'altra giostra c'era la casa degli errori io non mi preoccupo di quella la casa degli errori è la cosa che mi preoccupa di più ok, inizia prendiamo ma finché mi fanno provare le giostre va bene l'unica cosa che non voglio vedere è lui il maledetto scoiatto l'ho fatto i sostanzi illeciti ah non devo entrare allora aumenta la velocità diminuiamo la velocità ok l'abbiamo fermata non ti azzardare a muoverti salvataggio non mi fai entrare a meno meno male che non mi fai entrare questo significa che ci devo salire che bella cosa aspetta ci devo salire per forza perché non mi fa salire mi sono spaventato dov'è dov'è maledetto bambino stupido Giovanni di di schifo cavolo è difficile giocare un horror senza bestegnare è difficile cresce la faccia perché sono forte dai Giovanni non mi fare brutti scherzi ma dov'è che devo entrare fatemi capire una cosa dov'è che devo entrare non è l'area entrata non mi fa entrare ora mi arrabbio ora mi arrabbio fatemi entrare per favore allora aspettami aspettami si è fermata la musica non mi piace è iniziata però questa giostra mi piace perché è più rassicurante per chi ha l'aperto che cosa potrò mai accadere di così brutto in questa giostra ma perché non capisco perché non mi fa entrare ma perché mi disturbano in questi momenti di ansia mi sta fanno i 6.000 alleluia ci voleva tanto io non sto capendo che cosa sono ste robe che cadono qua tutto che si vede sfocato ma gli allucinazioni oh oh piano piano e la madonna oh calmati che brutta cosa che ho visto mi trema tutto mi trema pure il joystick mi trema basta ferma sto schifo ferma calma calma calmiamoci eh perché giuro chi schifo è là dentro oh ti ammazzo ma usciamo via non mi fa uscire via via di corsa pure vai via treachery hides in thoughts treachery that lashes like a whip and scars our insides the first time I saw Callum my thoughts betrayed me I looked down at this wrinkled red balling thing and I thought is that it? ma va a cagare tu e Callum ma magari quello Giovanni là he was so real so there and so far from my expectations me shattered fatto un figlio se ne fa un altro hai capito? ancora sei giovane a new foundation all of the love that we shared all of the warmth and goodness that followed built on a single traitorous thought ingannatori tutti ingannatori sono nooo no 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 io non la faccio questa no io mi rifiuto di fare le montagne russe ragazzi facciamo così noi ci vediamo domani con un altro gameplay in cui proveremo questa giostra ma abbiamo da st'idea facciamo una giostra ogni game ogni gameplay una giostra ogni giorno praticamente quindi vi aspetto domani che proviamo st'altra giostra bella raga pieативare commitments l an e and Grazie a tutti.